Venerdì 10 luglio a Roma sciopero di 24 ore indetto dal sindacato Faisa Cisal. La protesta interessa bus, tram metropolitane, le ferrovie Roma Civita Castellana Viterbo, Roma Lido e Termini Cento Celle. Il servizio sarà comunque regolare nelle fasce di garanzia fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Uno sciopero per chiedere maggiori tutele e investimenti per il settore nel post-emergenza coronavirus. In particolare il sindacato contesta un ordine di servizio del 13 marzo 2020 e lamenta che la fornitura quotidiana dei dispositivi di protezione individuale non viene effettuata regolarmente. A spiegare le ragioni della protesta è il segretario provinciale Faisa Cisal Roma, Luciano Colacchi. Riteniamo sia giusto aderire allo sciopero del 10 luglio, senata che incodra, lo sciopero indetto dalla Faisa Cisal. Perché l'auto ferro tranviere è stato lasciato completamente da solo durante il lockdown. Ancora oggi sui contingentamenti dell'utenza ci sono regole diversificate tra regione e regione e tutto è stato demandato alla sola responsabilità della pista. In più riteniamo i sufficienti distanziamenti tenuti per la mancata bigliettazione. Le aziende se ne accorgeranno alla chiusura dei bilanci in corso. Grazie. Grazie.